Il libro del novecento Due raffinati pittori del novecento uniti nell'arte e nell'amicizia sono i protagonisti della mostra Giovanni Colacicchi e Onofrio Martinelli un sodalizio artistico 1921-1966 organizzata dalla Banca Popolare del Materano nell'ambito della rassegna culturale Scenarte 2004. Nel solco della lunga tradizione che la vede legata alla storia di Matera da oltre un secolo e attenta a sostenere le iniziative del mondo della cultura, dell'ambiente e dello sport, la Banca Popolare del Materano ha inteso estendere ulteriormente il proprio impegno organizzando quest'anno per la prima volta una propria stagione di eventi. Come Banca Popolare del Materano abbiamo pensato di gestire direttamente 5 eventi utilizzando questo scenario unico dei sassi con delle iniziative di arte figurativa e fotografica per quest'anno ed è un'iniziativa che penseremo di ripetere se avremo i riscontri positivi che immaginiamo perché abbiamo dato un'impronta particolare e un valore particolare alla comunicazione che ritengo sia basilare per il successo di un'iniziativa di questo genere. L'esposizione è stata curata da Laura Gavioli, studiosa dell'arte pittorica italiana degli anni 20 e 40, affascinata dalla storia dell'amicizia artistica che ha legato con la Cicchia e Martinelli e dalle opere che questo sodalizio ha generato. L'esposizione è stata curata da Laura Gavioli, che non fai mai bene dalla storia dell'arte pittorica che ha legato in suggestivo della storia dell'arte pittorica. L'esposizione è stata curata da Laura Gavioli, perché ha legato la storia dell'arte pittorica gioca senza giorni 20 e 40, che non ha legato la storia dell'arte pittorica che ha causato un'impronta il forte, che non ha legato il mondo interno di pensare senza giorni 20 e 40, la storia dell'arte pittorica italiana dell'arte pittorica italiana della storia e rifiore. C 오� Mohammed L'arteia è stata curata da una storia delle gavaje di un'attitudineне di un'attitudine di un'attitudine di lancia. La parte cruciale della mostra riguarda, io credo, gli anni 30 Perché gli anni 30 sono per entrambi il momento della maturità Loro sono nati nel 1900, quindi nel 30 hanno 30 anni Onofrio Martinelli arriva da Parigi, torna indietro da Parigi nel 1931 E va direttamente allo studio di Colacicchi Comincia quel vero e proprio sodalizio per il quale era cominciata questa esperienza della loro amicizia Nel 1931 Flavia Arlotta, che poi diventerà la moglie di Colacicchi Comincia a studiare pittura E a questo studio di Firenze tutti e tre gli artisti approfondiscono le loro conoscenze e i loro temi Bisogna dire che soltanto nel 1932 Giovanni Colacicchi costruisce, mette in piedi quella grande opera Che si chiama Fine d'estate, con tutti i corpi, i giovani nudi E il paesaggio bellissimo E l'idea di Piero della Francesca dietro a questo dipinto Colacicchi, che è l'animatore del sodalizio Cerca di coinvolgere Martinelli In questa costruzione di immagini, di quadri, di figure Di grandi quadri di figure Lui aveva fatto un'anticipazione, che è presente nella mostra di Matera Che è l'Orfeo Orfeo, un quadro tragico, 1931 Costruito con spesse materie pittoriche Un nudo in primo piano dell'Orfeo che giace per terra Le bacanti nello sfondo E una visione notturna con la Luna Ecco, questo quadro è praticamente l'anticipazione di questo discorso Che Colacicchi vuole fare con il suo sodale Onofrio Martinelli E presenta nel 1932, appunto, Fine d'estate Nel 1934 nasce, quindi Mentre loro lavorano, gomito a gomito, un po' a Firenze Un po' ad Anagni Nasce l'idea del dipinto degli Argonauti Del riposo degli Argonauti Dell'Onofrio Martinelli Che sarà seguito da due altri dipinti sempre fondamentali Perché lui poi costruirà un certo numero di queste grandi opere Che sono la composizione di Nudi Del 37-38 E poi per ultimo nel 38 I Giganti Che è un dipinto con un paesaggio che rievoca l'inferno dantesco E queste figure in primo piano di maschili Che sono sempre questi due giovani che posano per loro Sempre quelli in diverse pose Dall'inizio alla fine E questi corpi sono trattenuti da sottili lacci Quindi una specie di sottile e perversa costrizione Che parla della problematica esistenziale Ma anche delle tematiche fondamentali del Novecento italiano Va giocare in억ionato Ma anche delle attività E chewaggio meg arrive Giocepolo di grande Ma anche delle attirazioni Votrio di eccellenza Che è libero Rorg là R andthat ẻ Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.